parmi in prima tutti i corpi a quello si debbano muovere a chi sia ordinata la storia e piace mi sia nella storia chi ammonisca e insegna a noi quello che ivi si facci o chiami con la mano a vedere o con viso cruccioso o con gli occhi turbati minacci che niuno verso loro vada o dimostri qualche pericolo o cosa ivi maravigliosa o te inviti a piangere con loro insieme o a ridere sono alcuni movimenti d'animo detti affezioni come ira dolore gaudio e timore desiderio e simili altri sono movimenti dei corpi muovonsi i corpi in più modi crescendo discrescendo infermandosi guarendo e mutandosi da luogo a luogo ma noi dipintori i quali vogliamo coi movimenti delle membra mostrare i movimenti dell'animo solo riferiamo di quel movimento si fa mutando il luogo qualunque cosa si muove da luogo può fare sette vie in su uno in giù l'altro in destra il terzo in sinistra il quarto con la lunge muovendosi di qui o di là venendo in qua il settimo andando attorno questi adunque tutti i movimenti desidero io essere in pittura siano corpi alcuni quali si porgano verso noi alcuni si porgano in qua verso e in là ed uno medesimo alcune parti si dimostrino a chi guarda alcune si retriano alcune stiano alte e alcune basse e e Grazie a tutti